L'area del parco fluviale agropolese da qualche tempo ospita una specie protetta e in via d'estinzione, la lontra. La regina dei fiumi generalmente conduce una vita solitaria legata ad un determinato territorio la cui estinzione dipende dalle risorse disponibili e dalla facilità di rifugio. Predilige acque pulite e fiumi allo stato naturale dove cerca cibo e riparo. Sono tante le iniziative nate per difendere e proteggere la lontra a partire nell'oasi UWF di Persano in Campania fino ad arrivare alla creazione delle riserve naturali proprio dove i fiumi Sele e Calure si incontrano, nel cuore di quello che oggi è il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L'Utralutra e il suo nome scientifico appartiene alla famiglia dei Mustelidi, il suo corpo è allungato e la sua pelliccia spessa e impermeabile le permette di nuotare anche nelle acque più fredde. Gerardo Scotti, ambientalista e responsabile del progetto Genesi per la riqualificazione del fiume Testene, a riguardo ha dichiarato. L'associazione Genesi sta monitorando la lontra e alcune specie di uccelli molto rari e improbabili per questa zona. Ciò conferma che ci troviamo davanti ad una nicchia ecologica unica. Ci raccomandiamo inoltre di avere molta cura delle lontre che vivono vicino al mare perché sono le più preziose. Il Testene conferma ancora una volta di avere una flora e una fauna da tutelare e per fortuna c'è chi se ne occupa con attenzione e passione. Ci sono sette uova testate, ha aggiunto Scotti, che hanno all'interno gli anatroccoli. Purtroppo la volpe che fa spesso visita ha danneggiato alcuni nidi, ma per noi lei è un animale altrettanto importante. Ne abbiamo recuperate sette, un'oca è stata divisa dal gruppo e messa in sicurezza perché sta covando, ha aggiunto l'attivista. L'area protetta si sta man mano ripopolando ed è una realtà che Agropoli ha il dovere di valorizzare, vista la quantità di natura che offre, dando un valore aggiunto alla città.